Parliamo di una situazione sicuramente difficile e peraltro in un scenario di evoluzione che può essere peggiorativa o migliorativa, quindi è molto incerta. Oltretutto gli arrivi qui sono molti su base spontanea che raggiungono i familiari che sono in Campania. La popolazione ucraina che già è sul territorio regionale campano è folta. Solo nella città di Napoli abbiamo 25.000 cittadini ucraini che possono accogliere parenti e quindi tracciare queste persone che arrivano è una difficoltà. Proprio su questo abbiamo tarato un metodo con la prefettura di Napoli con la quale è istituita una cabina di regia e con il Consolato Generale dell'Ucraina a Napoli. Noi eseguiamo un tampone antigenico che ha la valenza del molecolare e nel caso dovessero essere positivi abbiamo la struttura di appoggio di portici di competenza dell'Asnapoli 3, stato deciso stamattina in cabina di regia e quindi questo edificio resta comunque libero da positivi Covid. E soprattutto approfondiamo anche il ciclo vaccinale perché il popolo ucraino presenta una percentuale del 35% di vaccinati, quindi potremmo avere delle persone che non hanno proprio avuto la somministrazione del vaccino e che invece se volontariamente volessero aderire alla nostra campagna vaccinale noi saremmo pronti a somministrare il Pfizer, il Moderna o anche adesso il Nonovax. Lo spirito di questo hub, di questo cuscinetto è proprio di approfondire sia le esigenze di prima necessità che appunto appartengono al regime della protezione civile, anche con indumenti banalmente, biancheria intima e proprio a tal proposito al piano inferiore di dove siamo ora è stato allestito un mercatino con i beni che la protezione civile riceve quotidianamente da tutte persone che lo vogliono fare in modo gratuito, allestiamo un mercatino così senza chiedere cosa vuoi si prende e si porta via, questo è importante. E poi invece il nostro ruolo di inquadramento sanitario era proprio legato non solo, ripeto, all'inquadramento emergenza Covid, ma anche a tutte quelle esigenze di salute che queste persone dovessero avere perché sono scappati. Quindi banalmente anche un'aspirina, un farmaco anche banale, loro non ce l'hanno e noi siamo qui anche per questo. Noi abbiamo già, diciamo così, i beni di prima necessità che erano nei nostri magazzini, si tratta di beni nuovi, non sono un materiale usato e riciclato, è materiale richettato che mettiamo a disposizione di chi ne ha bisogno. Già ne abbiamo, nella cabina di regia di oggi si è stabilito che qualora ne avessimo bisogno di altro, la Guardia di Finanza è pronta a mettere a disposizione della protezione civile i beni confiscati e per cui, diciamo così, ulteriori donazioni in questo momento affollerebbero. Sappiamo qual è la generosità del popolo campano, lo hanno già dimostrato tutti gli afghani e già quella generosità ci consente adesso di dare una risposta anche a questa emergenza. Qualora dovessimo andare in affanno saremo noi a chiederlo. Grazie. Grazie.